Si raccusa polizia, domicinari per un pusher 23enne, rinvenuta e sequestrata a droga e donna 36enne denunciata per evasione. La misura dell'obbligo di dimora a cui era stato sottoposto un giovane di 23 anni non ha impedito allo stesso di commettere altri reati e vivere nella illegalità, continuando, nello specifico, a perpetuare furti e altri reati contro il patrimonio. Le segnalazioni che gli uomini delle volanti hanno inviato all'autorità giudiziaria hanno determinato quest'ultima ad aggravare la misura nei confronti del 23enne Siracusano. Pertanto, nella giornata di ieri, gli uomini diretto della dottoressa Guarino, a soddisposizione dell'autorità giudiziaria competente, hanno notificato al giovane la più gravosa misura degli arresti domiciliari. Inoltre, durante il consueto è mirato servizio di contrasto alla vendita e al consumo di sostanze estrofacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano. Agente delle volanti hanno rinvenuto e sequestrato nei pressi di uno stabile in via Santi Amato alcune dosi di hashish, cocaina e crack, pronte per essere vendute agli assuntori della zona. Infine, nel tardo pomeriggio di ieri, agente delle volanti hanno denunciato una donna di 36 anni, nata in Polonia, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, cui è sottoposto.